Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa contemporanea con delle sfumature gialle che ruota attorno alla scomparsa improvvisa di un uomo apparentemente normale ma la cui vita viene sconvolta da un'accusa di corruzione. Il romanzo pone la luce sulla pressione sociale e sulle aspettative che la società contemporanea pone sulle persone e sulle famiglie, mostra come la vita apparentemente tranquilla delle persone possa essere travolta da eventi imprevisti evidenziando le tensioni e le difficoltà che derivano da tali situazioni. La trama del libro Il resto non conta della scrittrice Natsu Miyashita pubblicato dalla casa editrice Atmosfere Libri è la seguente. Mochizuki Masayuki è scomparso, ricopre una posizione importante in una grande azienda di Tokyo, ha una moglie e una figlia di pochi mesi, un buon rapporto con i colleghi e un'espressione sempre gentile sul volto. Nonostante l'assoluta normalità che caratterizza la sua vita, una calda mattina di inizio primavera si perdono le sue tracce a causa di un'accusa di corruzione che lo vede coinvolto in prima persona. La vita apparentemente tranquilla delle persone a lui più vicine, la moglie, la figlia e la sorella, viene travolta dalla sua improvvisa scomparsa. Dilemmi, dubbi risolti e sfide sociali mai immaginate si riversano sulla famiglia dell'irraggiungibile signor Mochizuki, costretta a far fronte all'inaspettato cambiamento e alle pressioni della società contemporanea. Che tipo di persona era Masayuki? E come fare per ritrovare la speranza quando le certezze di un'esistenza intera crollano irreversibilmente da un giorno all'altro? Un romanzo in sei parti, ognuna narrata dal punto di vista di un personaggio vicino al signor Mochizuki, in cui si analizza l'impatto che la sua scomparsa ha avuto su coloro che invece sono rimasti ad attenderne il ritorno, faticosamente costretti ad accettare la sua assenza. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.